I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marsala, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato marsalese di 45 anni. I militari dell'arma avevano raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano visto uno strano andirivieni dalla casa dell'uomo. Nel corso di un servizio per verificare la fondatezza delle notizie ricevute, i carabinieri, notando strani movimenti, hanno deciso di intervenire e hanno perquisito l'abitazione. All'interno i militari hanno rinvenuto 13 grammi di eroina suddivisa in circa 40 dosi e un bilancino elettronico di precisione. Il 45enne marsalese è stato quindi arrestato con l'accusa di spaccio e dopo la convalida il giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.